Vediamo anche il territorio veneto, usciamo anche dai confini di Brescia, vediamo che c'è territorio, volontà di fare, belle imprese, belle realtà che danno lavoro, che danno anche possibilità di futuro, che danno anche cultura, che abbinata all'impresa fa anche la storia del nostro paese su tanti altri aspetti. Torniamo a salutare Giusy, mancano 5 minuti Giusy alla fine, mi ha detto la regia, mi ha fatto 5, mi ha fatto così, 5 minuti fa però. Giusy, torniamo, per le imprese ci sono tanti sistemi anche per il sostegno a questi progetti, sia per le start-up, ricordiamo il Medio Credito Centrale. Sì, certo, tutte le aziende, le start-up che sono iscritte alla sezione speciale della Camera di Commercio di Imprese Innovativa possono accedere alla garanzia pubblica di emanazione del MISE attraverso il Medio Credito Centrale che va a garantire questi progetti che stanno partendo e quindi li aiutano ad accedere al credito attraverso, appunto, garantendo per queste aziende su finanziamenti presso le banche. Fino all'80% dell'importo, vero? Fino all'80% dell'importo in virtù di progetti di investimento, mi viene in mente da dove c'è da realizzare la commercializzazione, piuttosto che la produzione, quindi ancora prima o ancora prima la prototipazione. Quindi tutto quello che è un progetto di business che ha merito di credito per poter accedere a questo tipo di garanzia pubblica può farlo attraverso questa speciale sezione della Camera di Commercio. Una piccola pillola invece per aziende già lanciate come Gruppo Giordano. Per aziende già mature. Penso mini bond che potrebbero essere... Sì, ci sono la finanza ordinaria, quindi i soliti strumenti, perché no, sempre il medio credito centrale, piuttosto che leggi particolari per chi va all'estero, quindi attraverso Simest, piuttosto che strumenti alternativi al credito ordinario come il mini bond che è attualmente normato dal decreto sviluppo ed è assolutamente uno strumento sulle quali molti aziende decidono di approfondire perché è uno strumento che va al di là, cioè non si basa sullo storico come normalmente succede per il credito ordinario, ma si basa sulle prospettive di sviluppo, sulle prospettive future. Quindi è importante che le aziende sappiano pianificare e definire bene i propri business plan per come, non solo come obiettivo, ma anche come cartina di tornasole per gli eventuali investitori. Quindi due soluzioni finanziarie completamente diverse, ma basate su progetti di sviluppo e di business plan futuri. Alla base ci deve essere quello, ricerca e sviluppo e futuro su queste cose qui e su questo possiamo andare a costruire dei supporti finanziari. Soprattutto per sviluppo, dove per sviluppo si intendono investimenti, si intendono nuovi insediamenti produttivi, si intendono sviluppo di nuova clientela, sviluppo di nuovi mercati, si intende sviluppo, cioè il futuro sostenibile per un'azienda, per il proprio business, per poter continuare ad alimentare la propria capacità di produrre valore aggiunto.